L'allerta a meteo gialla e poi arancione da questa sera fino a domani pomeriggio interesserà tutta la Liguria e fa scattare una serie di provvedimenti in più territori dello spezzino. È il caso di Levanto dove era in programma una festa in spiaggia a partire dalle 23.30 di questa sera. L'evento in questo caso è stato annullato. Questa mattina poi un violento temporale, seppur breve, ha interessato la costa levantese senza fortunatamente creare danni. Spostandosi a Rio Maggiore con l'annuncio dell'allerta arancione, il Comune ha disposto un'ordinanza preventiva che per la prima volta, perché da poco riaperta, interessa anche la Via dell'Amore. Nell'ordinanza sono state stabilite la chiusura di tutti i sentieri comunali fino a nuovo e contrario avviso, la chiusura della Via dell'Amore da 60 minuti prima dell'inizio dell'allerta meteo arancione e fino a 60 minuti dopo il termine della stessa. Sono vietate le visite turistiche, scattano anche i divieti di accesso ai bus turistici NCC sul territorio comunale e rifermata nell'area in località Acquarino, infine diverto di attracco al molo di Rio Maggiore e Manarola. A questa ordinanza si aggiungono anche provvedimenti in Val di Magra, dove ad esempio alcuni stabilimenti balneari saranno chiusi e alla Spezia, la data di bollicine con Max Giusti è stata rinviata lunedì 19 agosto. In questo caso i biglietti resteranno validi e per eventuali rimborsi è possibile rivolgersi al botteghino del teatro civico. Rinviati in Val di Magra gli spettacoli La Place des Jeux, La Petit Poisson di Compagnia La Gallina, del Metal e la Dolce Follia di Teatro nelle Foglie previsti per oggi sabato 17 agosto. La replica di domani 18 agosto di La Place des Jeux è annullata. Lo spettacolo Nani Rossi Show è spostato al Teatro degli Impavidi di Sarzana domenica 18 agosto alle 21.30.